Ciao a tutti e benvenuti a Stories in Slow Italian. Ultimamente ho ricevuto tantissimi messaggi e donazioni e devo dire che sono assolutamente sopraffatta. I numerosi complimenti che sto ricevendo mi rendono incredibilmente grata, quindi volevo ringraziare tutti quanti mi stanno ascoltando e mi seguono. I numerosi complimenti che sto ricevendo mi rendono incredibilmente grata. Grata is grateful, so io sono grato, I'm grateful. E rendere grato means to make someone grateful. So rendere, we use it to say you make me something, for example, mi rendi felice, you make me happy, ti rendo triste, I make you sad, rendere. Quindi volevo ringraziare tutti quanti, non avrei mai immaginato di arrivare a un seguito così grande. Grazie, 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 mille volte, grazie, a thousand times. Thank you. Tra i messaggi che ricevo ci sono spesso anche suggerimenti su argomenti per i prossimi episodi e i più richiesti sono episodi sulle abitudini e sulla cultura italiana in generale. Tra i messaggi che ricevo, amongst the messages that I receive, ci sono spesso anche suggerimenti, un suggerimento, an advice, a suggestion, su argomenti per i prossimi episodi. argomento, argomento, by now you should know it, because I use this word a lot, is the topic. Un argomento, un tema, un argomento is the topic. I più richiesti, so the most requested, sono episodi sulle abitudini e sulla cultura italiana in generale. Quindi, eccovi accontentati subito. So, now I'm gonna make you happy with this episode. L'argomento di oggi è il sistema scolastico in Italia. So, today we're going to talk about the school system in Italia, il sistema scolastico. So, someone requested this in particular, the school system, you know, especially if there are teachers or even students among you. I know it's a topic that might be interesting or useful even. Maybe you want to study in Italy or to work in Italy as a teacher. So, this might be useful. So, il sistema scolastico in Italia. Come funziona? Quanti anni bisogna studiare? E come sono divise le diverse tipologie di scuola? So, just a little bit in general. How does it work? How many years you need to study? What are the different kinds of school? How are they divided? Let's have a look at that. Dividerò l'argomento in due episodi perché è un tema abbastanza lungo. Quindi, in questo episodio parlerò della scuola dai 3 ai 15 anni. And then, in the next episode, I will talk about from the 15, 16 years old on. So, just today, because it's such a long topic, honestly. I will divide it in two episodes. Di solito, in Italia, i bambini iniziano ad andare all'asilo a 3 anni. L'asilo dura dai 3 ai 6 anni e qui si ricevono le basi dell'educazione, si imparano, per esempio, i colori, i giorni della settimana, i numeri e alcuni fatti sulla natura e sugli animali, e così via. So, l'asilo. L'asilo is the kindergarten. And, obviously, I mean, I think it's the same pretty much everywhere. You just need, you just start learning the basics, really. You learn colors, i colori, days of the week, i giorni della settimana, numbers, i numeri, and some general facts about nature, animals, and some. Alcuni fatti sulla natura, sugli animali, e così via. Si fanno anche tante attività e giochi per stimolare il pensiero indipendente. So, there are also many activities and games because they want you to start thinking by yourself. So, the independent thought, il pensiero indipendente. E si colora tanto. Colorare means to color. So, drawings, to draw as well, disegnare. Ne si colora tanto. Io conservo ancora tanti disegni di quando andavo all'asilo. è un periodo molto creativo. So, un disegno is a drawing. Disegnare, to draw. And I still keep so many of my drawings from when I was in kindergarten. I don't even know. You know, those things that you keep in your attic or somewhere and you don't really know why you're keeping it. I mean, it's supposed to be a memory, but do you actually ever go and have a look at it? I don't think so. I don't. But yeah, it's a very creative time of life. So, when you finish with six years, you just go to elementary school. La scuola elementare. Remember durare, we use it to talk about time, the amount of time. Quindi dura cinque anni e lasts five years. Qui si continuano a imparare le basi, ma si dividono già le materie. Una materia is a subject. So, you start dividing subjects here. Ci sono, per esempio, matematica, storia, scienza, italiano, inglese, arte. So, math, matematica, storia, history, scienza, science, scienza. Italiano, italian, just like you would have your own language. Inglese, English, arte, art, and so on. Di solito, però, si ha una maestra per le materie umanistiche e una per le materie scientifiche e una per le religioni. So, here we still call the teacher teacher, maestra. And usually in the elementary school, at least when I was going there, you have one teacher for the, how do you say, human subjects. So, materie umanistiche, like Italian history and so on. And one for the scientific subjects. And then there is also one for religion. Um, ecco, in Italia viene anche insegnata la religione cristiana, che ovviamente è facultativa. So, obviously you can choose if you want to study religion as well, but it is part of our school system. Interesting that you don't teach religion in general, you just teach English. Christian religion. Anyway, uh, i voti, qui, almeno quando io andavo a scuola, erano semplicemente ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. So, i voti, un voto is a note, the number you get, or the um, valutation, the, how much, the grade, yeah, i voti. Um, when I was going, I don't know if they changed in the meantime, but they were, they were just, like, ottimo, so great. Distinto, so, yeah, it's more than good. Buono, good. Sufficiente, so sufficient, just enough. Non sufficiente, so, not good, you didn't pass. Anche la scuola elementare è un periodo molto semplice, bisogna studiare, ci sono tanti compiti, ma è ancora un periodo molto rilassato. So, you need to study, obviously, bisogna studiare, ci sono tanti compiti, un compito is a homework. Ci sono tanti compiti, but it's still very relaxed, I mean, you're in elementary school, no? Le cose cambiano alla scuola media, che dura tre anni, dai dodici ai quindici anni circa. So, things change in middle school, la scuola media, that lasts three years, tre anni, dai dodici ai quindici anni circa. So, obviously, it changes depending on your birthday, but usually it's between 12 and 15 years old, circa, pretty much around. Qui si ha una professoressa per ogni materia. Si hanno molti più compiti ed esami e interrogazioni. So, here you start calling your teacher professor, professoressa, or we just say prof, la prof, la prof, o il prof. So, you have a teacher or professor for every subject here, per ogni materia. You have way more homeworks and exams and interrogazioni. Le interrogazioni are the oral exams. Per me era ancora un periodo molto felice, perché quasi tutti i professori mi adoravano. So, everyone adored me. How could you not? No, I was actually, how do you say in English, you know, the bookworms. I loved studying, or maybe I didn't love it, but I did. I studied a lot. And we say secchiona, o un secchione. In Italian, un secchione is a student who studies a lot. I studied a lot and my votes were very good. The votes here change and go from 10 to 3. Yes, from 10 to 3, if I don't remember wrong. If I don't remember wrong, if I don't remember wrong, the 10 is the best vote and the 6 is the sufficient. Sotto al 6 means that you have not passed the exam. Alla scuola media inizia a sentirsi un po' più pressione per il futuro, perché devi iniziare a pensare a cosa vuoi fare, cosa vuoi studiare quando le medie finiscono. So you start feeling this pressure, una pressione per il futuro, for the future, because you need to start thinking what you want to do, what you want to study, when middle school will be finished. Quando le medie finiscono. Ah, ecco, chiamiamo le medie o scuola, chiamiamo le scuole o scuola elementare, scuola media o semplicemente le elementari, le medie. Alla fine delle medie c'è il primo grande esame dove vengono testate tutte le materie, con un esame scritto e un esame orale. So, at the end of middle school, there is your first big exam, il primo grande esame dove vengono testate tutte le materie, so where you, all the subjects get tested, will be, yeah, you have a test for all the subjects, con un esame scritto e un esame orale. So with a written and an oral text. I don't remember, I think there was also a thesis you had to write, obviously something very easy, but I don't quite remember. No, I don't remember if I had to write a thesis, I think so, but I don't even remember what topic I might have chosen. Se non passi l'esame, puoi essere bocciato e devi ripetere l'esame. So if you don't pass the exam, you fail. We say bocciare is to fail someone. Otherwise, to fail an exam, we say non passare l'esame. And you, so if you fail, it's passive for us. So you get failed, basically, by the teacher. Puoi essere bocciato, bocciare. E devi ripetere l'esame. And obviously, the opposite is passare l'esame to pass the exam. Però è abbastanza raro che questo succeda, deve essere un caso speciale. So it's very rare that you fail the big exam. It only happens if you really, if you didn't attend classes very often, if you were causing troubles, if you really didn't pass the exams during the years. So it's really a special case. Ok, per oggi è tutto. I think it's enough. It's already 15 minutes. Nel prossimo esame parlerò di cosa succede dopo the median. So in the next exams we will talk about, in the next episode, sorry, we will talk about after middle school, what happens there. Thank you for listening, as always. A presto. Ciao, ciao.